Non lo so se per i preferiti dell'anno scorso sono in ritardo, però ho pensato che comunque un Get Ready With Me, in cui uso tutti i prodotti preferiti del 2021, non potesse fare male. E quindi eccolo! Ciao! Ho pensato che per farvi vedere i preferiti del 2021, anche se sono in ritardo, spero che nessuno si offenda, per farvi vedere i preferiti del 2021 forse la cosa migliore fosse truccarmi, truccarmici, e quindi farvi rivedere proprio in azione. Faccio una breve premessa e poi comincio subito a truccarmi, anzi comincio subito a truccarmi. Il primo preferito di cui parlo è il Primer Fenty Beauty, questo è il Pro Filter Instant Retouch Primer, il che mi dà la possibilità di dirvi che effettivamente i miei preferiti del 2021 non sono prodotti, quasi nessuno prodotti usciti nel 2021, ma sono tutti ripescati. Questo in particolare l'ho finito, ho scavato i rimasugli con questo affarino simpaticissimo che trovate di solito su... io credo di averlo comprato da Maki Beauty. Comunque si trovano in vari posti. Questo primer... allora, io ho utilizzato diversi primer quest'anno, ho preferito i primer leggermente idratanti. Questo aveva la giusta dose di idratazione e però effetto un po' matificante e duraturo. Infatti è soft matte e mi piace tantissimo la consistenza, è un prodotto che non è uscito quest'anno, c'è da un sacco di tempo in giro e mi piace tanto. Ha una consistenza di un siero in pratica, quindi è anche proprio carino da spalmare, è una bella sensazione di uso, quindi mi piace tanto. Come vi dicevo appunto, non sono tutti prodotti nuovi, anzi, per esempio, non posso non scegliere come preferito di quest'anno per quanto riguarda i fondotinta, il Fit Me Matte & Poreless di Maybelline, questo mi ho preferito di sempre in realtà. Avrei potuto mettere qualcos'altro, però sono tutte cose... questo è il numero 112 Soft Beige, che è una colorazione nuova, questo sì. Un sottotono leggermente diverso da quelli che c'erano prima. Comunque, è un prodotto che mi piace tanto, io dicevo avrei potuto metterne anche altri di fondotinta che ho utilizzato quest'anno tanto, con soddisfazione, per esempio lo Stay Naked di Urban Decay, che era anche tra i miei preferiti dell'anno precedente. Però devo dire che in realtà questo è quello che ho usato di più e che mi è piaciuto in generale di più e che non mi stanca mai. Ho comprato altre cose, ho comprato tanti prodotti per la base, ho comprato per esempio il fondo Duma Beauty, che è anche molto buono, ho provato il fondo, come sapete, come avete visto forse nei video precedenti, il fondo di Clio Makeup, che però non posso dire altrettanto bene come quello di Huma Beauty. Però, insomma, di prodotti ne ho testati, ma devo dire che durante l'anno, vuoi per colorazioni, vuoi per affidabilità, io sono sempre tornata a lui, ho comprato diverse shade nell'anno scorso, non posso non citarlo come preferito di sempre e quindi anche dell'anno scorso. Invece il concealer, il correttore preferito per l'anno 2021 è sicuramente questo qui di Armani. Armani, questo si chiama Power Fabric ed è la colorazione 7.5. Io vi ho già detto, intanto mi metto questo che è un altro preferito di sempre, però non ve lo cito più di tanto perché per ora non è reperibile, nel senso che è il Beck Under Eye Brightening Corrector in Medium to Deep, è però un prodotto che, essendo becca fallita, in questo momento non è particolarmente reperibile, anzi non lo è per niente, però pare che tornerà perché, Smashbox ha acquisito i diritti della formula proprio perché è una formula che piace a molte, non solo a me. Comunque, vabbè, metto questo come, diciamo, come primer per le occhiaie e poi uso appunto il Power Fabric di Armani. Armani è un brand che mi fa arrabbiare, perché costa una fracca, però tutte le cose che ho provato mi sono piaciute, il che mi dà molto fastidio perché vuol dire che è uno di quei brand per cui, niente, devi spendere soldi. Però veramente è un buon prodotto, non gli posso proprio dire niente, quindi niente, purtroppo è così. Come Cipria, la preferita senza dubbio di quest'anno, e credo forse anche dell'anno scorso, adesso non ricordo onestamente, è questa, la Veil di Hourglass. Era nello smaltimento, quindi è anche una delle poche cose che ho usato, veramente. Però è un buon prodotto, non ci posso fare niente. A me piace, piace anche se su tutto il viso, nonostante abbia una lucentezza abbastanza, insomma, è abbastanza lucente, per cui va bene anche per le pelli un po' più secche. Però a me non lucida, anzi, è un ottimo prodotto, lo metto volentieri anche sul contorno occhi, anzi, è la mia preferita per il contorno occhi, ma la metto anche però su tutto il viso. Ne uso pochissima, cioè veramente quella che mi rimane nel tappo di solito, per cui veramente poca. Però mi piace, mi piace proprio tanto, e non ci posso fare niente. È uno dei miei prodotti preferiti in assoluto. Per le sopracciglia, il mio acquisto e prodotto preferito di quest'anno è sicuramente l'ibro di Mulac. Questa è un'uscita che è stata quest'anno, è uscita proprio l'anno scorso appunto, i primi prodotti per sopracciglia di Mulac. Io avevo altra roba in smaltimento, un sacco di roba come sempre in smaltimento, però questo è quel prodotto da cui mi rifugio quando voglio una cosa veloce e che so che è precisa. Non è uno di quei... L'applicatore è un po' strano perché, come vedete, è sottile e ampio. Io lo uso di piatto per riempire dove mi serve e invece dove è più sottile per fare il singolo peletto. Anche se, come forse sapete, io non sono tanto capace di fare il singolo peletto e non è neanche un effetto che mi piace molto. A me piacciono le sopracciglia che si vedono, insomma, un po' presenti. Questo più o meno è l'effetto che cerco. Per fissarle ho usato vari prodotti, tra cui anche il Brow Soap di Revolution, che però ho perso. Quindi ho perso dietro al mobile. Il mio mobile, qui della stanza da letto, della camera da letto dove mi trucco, fa gocita prodotti, perché se vanno dietro e stanno attaccati al muro è impossibile recuperarli. Quindi, purtroppo, niente, è andato perduto. Mi piace il chiave, ma non era sicuramente un mio preferito di quest'anno. Ho usato come fissante questo prodotto qui, che è il Brow Pot di Nabla. Questo è un prodotto infinito che ho in smaltimento da anni ormai. Non lo citerei come mio preferito, però si lascia utilizzare. Se devo scegliere una cosa per fissare, forse scelgo questi di Anastasia. Questa è la mini size dei loro mascara per sopracciglia. Lo uso solo se voglio, appunto, tenere in posizione le sopracciglia, ma diciamo che è un preferito che non uso sempre. Insomma, è preferito perché mi è capitato di usarlo di più quest'anno, però non è uno di quei prodotti che uso sempre. Allora, per quanto riguarda il bronzer, devo dire che il prodotto che più mi è piaciuto per quest'anno è il Loish di Uta Beauty, anche se è arrivato molto tardi nel corso dell'anno. Però mi è subito molto stupito perché si sfuma molto bene. la colorazione, questa è la light, è molto carina ed è costruibile, per cui se volete un effetto molto naturale lo potete ottenere, se lo volete stratificare lo potete fare. È molto pressato, molto sottile come polvere, veramente è un buon prodotto. Mi piace, quindi approvato. Anche un buon prodotto, abbastanza buono, il Butter Bronzer, che effettivamente non è un prodotto nuovo, voglio dire, è abbastanza noto ai più. Come vi dicevo appunto, io non ho trovato grandi cose che sono uscite quest'anno come prodotti che amo e che cerco tanto. Devo dire che è stato più un anno di riscoperta di prodotti, di grandi buoni prodotti che non di scoperta di nuovi prodotti di cui mi sono innamorata. Un altro che non fa eccezione è il Soft and Gentle di MAC, che è praticamente uno dei loro illuminanti più famosi, che io ho scoperto solo quest'anno. però mi piace tanto anche questo, molto naturale come effetto, però anche stratificabile se invece voi amate di più un impatto che si nota di più. Questo lo potete costruire insomma abbastanza facilmente. abbastanza facilmente. Come blush? Allora, bronzer e highlighter in crema? Devo dire che bronzer in crema al milk forse è quello che mi è piaciuto più di tutti. Anche la formula dei blush di Made by Mitchell non è male, anzi adesso usiamo questa. Ve la faccio vedere che non l'abbiamo vista, invece mi sa che il milk l'avete visto. Ne ho due colorazioni, una più fredda e una più calda. Questa è la più calda, si chiama Creme Cove e questa è invece quella più fredda. Ve la faccio vedere tanto qua. Che è Shady Business. Non so se si vede, ma penso di sì. È una buona formula, sono molto carini questi. Si sfumano molto bene e si fissano parecchio. Buono, non mi piace. Io come sapete, come vi ho detto tante volte ormai, mi piace metterli sopra le polveri. Ovviamente ove possibile, ove la formula lo permetto. Però mi piace perché mi danno un effetto molto più levigato e molto più duraturo. Quindi mi piace così. Come blush ne ho usati parecchi che mi sono piaciuti. Ne ho comprati tanti nuovi. Vabbè, come sapete, se avete visto i miei video precedenti, i blush sono il mio punto debole. Ci sono tante formule che mi piacciono e mi è piaciuto tanto testarli e quindi ne ho una marea. Devo dire che nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, le mie formule preferite sono state formule in crema. Non credo di aver scoperto crema, mousse, liquide, ma non in polvere. Non credo di aver scoperto niente di nuovo in polvere che mi sia veramente piaciuto. Quindi adesso ve ne cito alcune e poi decidiamo cosa mettere come formula che mi è piaciuta più di tutti. Allora, le formule che ho amato di più sono state blush, anche in questo caso, mi è piaciuto. Ho cherry cola e poi ne ho un altro che è questo qui, che è mango da kiri, che però ha un sottotono molto giallo e secondo me non mi dona, quindi no. Poi, altra formula, anche qui il milk, questo è swerve, è un colore che mi piace tanto. Anche questo è un sottotono leggermente, è un aranciato con sottotono leggermente giallo, ma questo mi dona di più, quindi niente. Poi, un'altra formula che mi piace tanto è questa, di Shiseido. Questi sono i Synchro, no, i Minimalist Whipped Powder Blush e sono in pratica delle mousse to powder. Anche questo molto carino, anche questo come vedete è stato l'anno dei colori leggermente aranciati, albicocca aranciato. Anche questo, veramente un prodotto carino. Di Erdalia, deliziosi, questi piccoli pottini, veramente carino. questo è un colore stupendo, si chiama Autumn Scandal. Mi piace tanto, anzi, adesso questo lo metto. Anche se poi ci andrò a mettere sopra il mio preferito, forse in assoluto, che è il Be Blushy, Peach Out, di Basic by Basic Gaia, per colmai fai. Allora, questi, questi, nuovi pennelli che ho comprato, di solito, con i Jessup, mi trovo molto bene, ma quest'ultimo set che ho comprato per viso, non mi è piaciuto tanto. Perde un sacco di setole. Quindi dicevo, carine queste formule, tutte queste formule che vi ho citato, carina anche la, la nuova formula di Nabla, i Churisons, sono, mi hanno colpito, anche se questi li ho usati molto poco, perché mi sono arrivati proprio veramente alla fine dell'anno, se riesco a aprire lì ve lo faccio vedere. Io ho comprato, Touch My Soul, molto bello pure questo. Questo, bel rosa, però, né troppo caldo, né troppo freddo, molto bello. Però, niente, senza dubbio, il mio prodotto preferito, il mio prodotto, il mio blush dell'anno, è questo, i blush, i pitch out, in particolare, di Cosmify, per, by Basic Gaia, per Cosmify, insomma, non so come dire, che è questo colore, rosato, con un leggero sottotono rosso, è quelli che io chiamo i blush belli, non hanno un colore particolare, è un colore bello. Però, guardate quanto è bello, la formula si sfuma benissimo, si usa veramente facilmente, è veramente un prodotto incredibile, mi è piaciuto tanto, e di questo potrei decidere di comprare anche un'altra colorazione, che è Log Lady, che si adatta anche all'uso come bronzer, veramente carino, anche se mi dovrei fermare, stare calma, non comprare più niente, però questo è veramente, veramente mi tenta, perché è un prodotto tanto, tanto carino. Palette occhi preferita? Allora, vi faccio innanzitutto una menzione a questa palette, che è la sashimi di Kaleidos, molto carina, mi piace tanto la formula di questi colori, tra l'altro questi due duochrome sono stupendi, però questa mi è arrivata molto tardi, quindi non posso dire che sia stato un preferito, cioè, lo è, ma non posso dire che sia stata la palette più utilizzata del 2021. Quello che devo dire è che in realtà, guardando le cose che ho a disposizione, la palette che ho utilizzato di più in assoluto quest'anno, è sicuramente la linea Friends per Revolution, in particolare questa grossa, la faccio vedere, a me piace, non ci posso fare niente, mi piacciono, questi ombretti mi piacciono, non sono di quelli super stratificabili, super pigmentatissimi da super, però si lasciano usare per il trucco di tutti i giorni, che è stato quello che ho fatto io, per la maggior parte di quest'anno, cioè non posso mentire, è ottima, sono ottime, sono carine anche le piccole, in particolare le mie preferite sono, questa che è Rachel, e questa che è Monica, a me piacciono, non ci posso fare niente, sono proprio dei prodotti carini, non sono tutte ottime, tutti i colori, intendo dire, non tutti i colori, sono ottimi, bellissimi, però, sono sicuramente, sono sicuramente, quelli che ho utilizzato di più quest'anno, quindi adesso useremo, la palette grande, però una menzione, va anche, una menzione d'onore, va anche, alla palette Uma, questa qui è la, Black Magic, Coming to America, ed è la, A Vision of Perfection, Queen to Be, insomma, ha vari nomi, però, Queen to Be palette, ed è questa, ci sono dei colori, secondo me, molto belli, mi manca un colore, da transizione, che andremo a prendere, proprio, dalla palette, che vi ho fatto vedere, dalla, dalla grande di, Friends per Revolution, farò, farò un trucco semplice, non vi aspettate chissà che cosa, però, insomma, questo è, vado a prendere, Carol, che è questo, e lo uso come transizione, adesso vi faccio vedere, allora, sono polverosi, sono un po' polverosi, voglio dire, questa palette costa, se non sbaglio, 12, 13, 15 euro, cioè una cosa di questo genere, sono ombretti, che a me durano tutto il giorno, più di Natasha Denona, che costa, quante volte tanto, cioè, 7 volte tanto, secondo me, se voi volete, un prodotto che, cioè, se non avete bisogno di, testare robe super sblasonate, ma vi serve, il make up, perché vi serve per truccarvi, per andare tutti i giorni, queste sono, cioè, non gli si può dire niente, proprio, le trovo, le trovo comode, però, devo dire che, tocco di colore, bello bello, questo, non si batte, vi faccio vedere, vi faccio vedere, questo, che nel panno, sembra molto più, freddo, di quello che è, in realtà, anche qui, allora, io penso di avervelo già detto, sicuramente su Instagram, l'ho detto, io preferisco, di gran lunga, i prodotti, che devo stratificare, cioè, non so bene, siccome non sono, una professionista del make up, non so bene gestire, le formule, troppo, 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 pigmentate, da subito, ci, faccio fatica, ho sempre paura, di fare macchia, e che, di non essere capace, di gestirle, durante la giornata, quindi, preferisco, prodotti come questi, che, appunto, la prima passata, magari la devo costruire, un pochettino di più, per farlo diventare, intensissimo, però, come vedete, poi, ci diventa, quindi, non è, una cattiva qualità, della paletta, proprio, una formula, di questo tipo, dei, degli ombretti, e io, mi piace troppo, così, mi piace molto di più, e ci vado molto più tranquilla, un'altra formula, ottima, che vi devo citare, è quella, di, delle palette di Beauty Bay, prendo, allora, facciamo, che stratifico un po', scurisco un po', l'angolo esterno, con, uno di questi colori, ad esempio, Mr. Geller, allora, visto che l'ho citata, e che mi mancano dei colori, vi faccio dire, anche la Wilderness, di Beauty Bay, la palette, e, allora, volevo, usare, un, un color pan, che, secondo me, dovrebbe esserci, in ogni palette, per, suonare un po', i bordi, come avete visto, ho messo, quel colore, più scuro, Mr. Geller, del, della paletta, di, eh, Franz per Revolution, nell'angolo esterno, e, ora, volevo pulire un po', i bordi, e, poi, visto che ci siamo, userò, da qui, eh, due, mh, due cose, uno, volevo usare, lo shimmer, da mettere al centro, della palpebra, eccolo qui, eh, mi piacciono, questi, questi ombretti, di Beauty Bay, mi piacciono, mi piacciono, quelli pastello, mi piacciono i matt, mi piacciono gli opachi, mi piacciono, tutti, tutti, veramente, tutte le formule che ho provato, mi sono piaciute, mi piacciono, le palettine da nove, mi piacciono anche queste più grandi, insomma, secondo me sono ottimi, eh, ottimi, ottimi ombretti, e poi, volevo prendere, questo, da mettere all'angolo interno, per dare un po' di colore, intanto la piccola vi saluta, qui, già che ci sono, andiamo un attimo, allora, sfumo bene, con le dita, professionalmente, il tutto, già che ci sono, prendo anche un colore, da mettere, nella rima inferiore, e potrebbe essere, vediamo un attimo, ma sì, facciamo una cosa particolare, prendo, i verdi, passando al mascara, il mio preferito, senza dubbio, dell'anno, e di sempre, è il subliminal, di volume 2, di, volume 2, scusate, di Astra, però, questo è chiuso, e non lo voglio aprire, per cui, adesso uso un altro prodotto, che, mi è abbastanza piaciuto, e che è, il Dark Love, di Clio, non mi dispiace, questo, mascara, così come non mi è dispiaciuto, il, il, gente, no, il Black Mamba, scusate, di Mulac, sono, due prodotti diversi, quello di Mulac, molto, 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 volumizzante, questo, è abbastanza volumizzante, ma, insomma, ha un effetto un pochino, più naturale, rispetto al Black Mamba, che invece, è un pochino più, gnocchetto, e lo scovolino, è di questo tipo, sulle labbra è stato senza dubbio l'anno dei colori sheer e luminosi, e quindi vi faccio vedere due prodotti di questo tipo, allora, come matita contorno le labbra con tartan di, Neve Cosmetics, le pastello labbra sono sicuramente un preferito di quest'anno, altro preferito scopertissimo di quest'anno è l'Elf Sheer Sleek, di Elf appunto, che è un rossettino lucidino, a metà tra un burro cacao e un rossetto, mi piace tanto, e dà questo effetto bello luminoso, io trovo che mi dà di più l'effetto luminoso rispetto a quello opaco, comori terribili, dei lavori, vabbè, ormai lo sapete, e invece, e invece come gloss, questo, Lifter Gloss di Maybelline, stupendo, questo è Topaz, ed è un bellissimo colore, così, ambrato, bello, e guardate che bell'effetto che dà alle labbra, stupendo, e questi, questi erano i miei preferiti, credo, ah no, una cosa, mi sono scordata, il, lo spray fissante, il mio preferito è stato il Bare With Me, di NYX, ma devo dire che anche il Dewy Finish di NYX, non mi sta dispiacendo, però il Bare With Me secondo me è meglio, comunque, questo è quanto, non male anche il, l'I Love Revolution Watermelon, questo ha un profumo molto intenso, di, di, di anguria, quindi vi deve piacere, comunque, questi erano i miei preferiti dell'anno, fatemi sapere nei commenti, quali sono stati i vostri preferiti, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!